Si è concluso da pochi giorni il premio Caglianiello edizione 2021 indetto dal dipartimento di fisica dell'università di Salerno in memoria dell'eminente scienziato ed educatore professor eduardo Caglianiello. Come accade ormai da anni gli studenti del liceo Alfonso Gatto guidati dai loro docenti hanno partecipato attivamente al concorso che prevede la risoluzione di complessi problemi di matematica e di fisica, vincitore della gara è l'alunno Francesco Guerra della classe quinta sezione A dell'indirizzo linguistico. Il liceo si è inoltre distinto in tutta la provincia di Salerno per la speciale menzione di merito e di partecipazione per gli studenti dai notti Stefano, Voso, Pietro, Pesca, Mario e Vaina Benedetta. La cerimonia di premiazione avverrà durante la conferenza conclusiva del concorso che si terrà nel mese di maggio, un risultato di eccellenza da evidenziare e premiare con orgoglio tenuto conto del difficile momento che la scuola, gli studenti e i docenti hanno dovuto affrontare mantenendo con costanza un atteggiamento di serietà, di impegno e di entusiasmo, un messaggio di forza e di resilienza che fa guardare alla fragilità di oggi con coraggio, determinazione e fiducia.